Sono Elena di elegrafica.it, ho aperto il blog per sono mamma di due bambini, lui è un bambino di 7 anni e mezzo, ho aperto il blog per presentare i miei lavori di grafica e adesso è diventato anche un sito dove presento col portfoglio i lavori, come vedete è un po' faticoso fare la mamma blogger con un bambino così piccolo ma si tenta di lavorare. Sono anche grafica freelance e sul mio blog potete trovare scaricabili per bambini e tutti i miei lavori in rete alla grafica.